E' accusata d'aver tentato di sottrarre una bambina di 4 anni ad una giovane coppia del posto, ma una settantenne romena è stata denunciata a piedi libero dai carabinieri di San Giustino. La straniera è risultata da qualche tempo abitante proprio nel comune Alto Tiberino. Le indagini sono scattate nei giorni scorsi, quando i militari hanno ricevuto la segnalazione di quello che è stato definito un verosimile tentativo di rapimento di una bambina avvenuto la sera precedente. I carabinieri che, in base a quanto da loro stesso riferito, non avevano ricevuto alcuna denuncia formale o richiesta di intervento, hanno però avviato accertamente rintracciando i genitori della piccola, che hanno confermato come, mentre passeggiavano con la figlia, accanto a un'area periferica del centro, una signora si era avvicinata alla bimba facendone un saluto e cominciando poi a parlare con lei. Quindi, secondo la versione fornita agli inquirenti, la donna, dopo aver preso per mano la piccola, l'avrebbe presa in braccio tentando di allontanarsi. C'è stato però il tempestivo intervento del padre, che avrebbe intimata la donna di fermarsi, lasciare la figlia e allontanarsi, cosa fatta subito dalla donna. Verbalizzata la vicenda in caserma da parte della coppia, sono quindi scattate le indagini dei militari di San Giustino, che in pochi giorni sono giunte alla individuazione e dunque alla denuncia della presunta responsabile di questo gesto.